Alleluia, El Shaddai, El Shaddai è in mezzo a noi, di Dio onnipotente, sapete un giorno Dio si presentò ad Abramo nel momento della sua debolezza, Abramo aveva 99 anni, come ci si sente a 99 anni? C'è qualcuno che ha più di 70 anni stasera? C'è qualcuno? Chi ha più di 80 anni? Qualcuno che ha più di 80 anni? Ci arriverai, ci arriverai. Dio si presentò ad Abramo quando era debole, 99 anni, e gli disse a Ni El Shaddai, io sono lì Dio onnipotente, tu sei debole ma io sono onnipotente. Ed io credo che il Signore voglia, desideri manifestare la sua potenza nella tua vita. Prima di dire amèn però, ascolta questo messaggio. Questa sera io voglio parlarvi della formula divina, quindi parleremo di chimica. mi piace la chimica? Io ce l'avevo qua la chimica, proprio non si scendeva neanche con un litro di Coca-Cola. La chimica la odiavo e quindi quando andavo a scuola avevo al massimo la sufficienza, è vero? Poi ho cominciato a leggere la Bibbia ed ho scoperto la chimica di Dio e ho cominciato ad appassionarmi alle sue formule ed in questa sera vorrei condividere con voi proprio una formula divina. Vogliamo subito scoprirla? Seconda Corinzi 12.9, la mia grazia ti basta perché la mia dunamis, la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Amèn? Giusto un versetto, un versetto potente. Sapete, quando ero adolescente avevo la tessera del partito comunista, avevo idee di sinistra e frequentavo persone estremiste abituate a maneggiare le bombe Molotov. Adesso il pastore Spure non mi invita più, vedete. La Molotov si costruiva in un modo molto semplice, bastava fare in modo che la benzina venisse a contatto con un altro elemento che si chiama innesco, vedete vi insegna a costruire la Molotov, però bastava mettere a contatto la benzina e l'innesco e quando la benzina e l'innesco venivano a contatto si generava la reazione chimica che provocava l'esplosione e l'incendio, quindi era facile costruire la Molotov, bastava prendere la bottiglia e riempirla di benzina, metterla in un sacchetto dove c'era anche l'innesco e poi lanciarla ed una volta che la bottiglia era lanciata e cadeva, quando si rompeva avveniva la reazione chimica perché la benzina e l'innesco venivano a contatto e dunque c'era l'esplosione e l'incendio e dunque attenzione, se la bottiglia non si rompeva allora niente incendio, niente esplosione. Grazie a Dio non ho mai lanciato una bomba Molotov, però ho partecipato ad un'azione dove si lanciava una bomba Molotov contro un convento di suore cattoliche, molti, molti, molti anni fa, non ero credente ovviamente, chi lo sa forse volevamo fare la riforma protestante, non lo so però credo che Lutero non fosse d'accordo con noi, mi ricorda ancora perfettamente quando questa bottiglia si ruppe avvenne immediatamente l'incendio, voi mi direte ma che c'entra la Molotov con seconda Corinzi 12, e beh sapete anche in seconda Corinzi 12 c'è una reazione chimica, si parla di uno scoppio, si parla di elementi che vengono a contatto, è strano vero? Eppure questo versetto mi faceva pensare che a volte la nostra vita nelle mani di Dio può essere come una bomba, una bomba Molotov, un'arma di guerra che lui vuole utilizzare per mettere scompiglio nei piani di Satana, perché Dio si può servire proprio di te per abbattere le fortezze sataniche, di te personalmente oltre che come Chiesa per abbattere le fortezze sataniche e per compiere i suoi propositi. Mille ne cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra, Salmo 91, è vero? Com'è possibile tutto ciò? C'è scritto nel nostro versetto, guardiamo con attenzione, in questo testo ci sono tutti gli elementi per costruire questa bomba, asteneia, haris, dunamis, debolezza, grazia, potenza, dunamis, ecco questi sono i tre ingredienti della divina miscela esplosiva, la bomba di Dio, la nostra debolezza è la bottiglia che si rompe, la grazia di Dio è l'innesco e la potenza di Dio è la benzina, interessante vero? Quando i primi due elementi vengono insieme, cioè la bottiglia si rompe, l'innesco viene a contatto, allora la benzina può scoppiare e dunque vedete in alcune circostanze Dio permette di proposito che noi veniamo a trovarci nelle difficoltà e che a volte le nostre forze crollino e persino lui permette che ci rompiamo, è vero? Proprio come una bottiglia scagliata contro un muro, è come se lui ci prendesse e ci proiettasse nelle difficoltà e lì nelle difficoltà il nostro vigore si inaridisce, è vero? Fino a che diventiamo impotenti e quando raggiungiamo proprio il fondo ecco che Dio manifesta la sua potenza perché la sua grazia entra in contatto con la nostra astenia, con la nostra debolezza e da quel punto avviene il miracolo, grazia di Dio e debolezza si incontrano e fanno accendere la dunamis, la potenza di Dio, è proprio quello che Paolo intende qui nel versetto che stiamo meditando, quando la nostra debolezza viene a contatto con la grazia divina avviene questa reazione chimica che accende la potenza di Dio in noi e ci rende capaci di compiere i suoi propositi perché lo Spirito Santo vuole portare a compimento dei propositi attraverso di te personalmente, è vero? Dunque vedete i componenti di questa miscela esplosiva, i componenti essenziali sono due, asteneia e haris, debolezza e grazia, è quando questi due elementi si incontrano che si accende la potenza di Dio, asteneia, familiare questa parola, vero? Vuol dire debolezza, se andate a fare una ricerca, oggi si fa in Google però non vi fidate tanto di Google, andate in un dizionario guardate astenia perché è così che si traduce anche e vedrete che l'astenia scientificamente è considerata una malattia, infatti asteneia letteralmente vuol dire senza forza, asteneia è una parola greca e dunque scientificamente è considerata una malattia, astenia significa riduzione dell'energia, una significativa riduzione dell'energia, della forza, un senso di impotenza, un senso di incapacità e dunque qui Paolo ci sta dicendo una cosa incredibile e cioè che quando noi siamo KO, ti senti KO stasera? Non dire amen, ma se ti senti KO quando sei knock out, Paolo ci dice che la potenza di Dio può manifestarsi in un modo perfetto nella nostra vita, perciò apri bene le orecchie, vuoi sperimentare la potenza di Dio nella tua vita? Sai quando si verifica questo? Quando sei davanti ad una situazione dove non hai le forze, non hai le risposte, non hai le risorse, non hai le soluzioni, in altre parole quando sei con le spalle al muro. Cos'è? Non sento più amen. In altre parole ti sei mai trovato in una situazione del genere? La Bibbia sapete è piena zeppa di persone che in diversi momenti della loro vita si sono trovati con le spalle al muro, uomini e donne che hanno sperimentato la potenza di Dio nei momenti più bui della loro vita, per esempio nel Vangelo di Marco se vi ricordate dopo la prima moltiplicazione dei pani è scritto che Gesù obbligò i suoi discepoli a salire in l'arca e ad attraversare il mare e precederlo sull'altra riva, è vero? E attenzione Gesù sapeva bene a che cosa sarebbero andati incontro perché durante quella traversata avrebbero incontrato una tempesta, è vero? E la loro vita sarebbe stata in pericolo, eppure Gesù li obbligò, sembra che Gesù avesse fatto apposta a metterli in difficoltà, è come se avesse preso la bottiglia e l'avesse scagliata nella burrasca e quando questa bottiglia, la barca piena di discepoli, sbatte contro la tempesta si rompe e lì viene fuori tutta la debolezza dei discepoli perché sono terrorizzati, sono smarriti e soprattutto sono senza forza, asteneia, sono senza forza davanti alla tempesta, impotenti, infatti continuavano a remare ma non si muovevano di un millimetro perché il vento era contrario, dunque il primo elemento della miscela divina si era manifestato, la debolezza dei discepoli, l'impotenza dei discepoli e quando stavano ormai per crollare e per mollare ecco che Dio manifesta il secondo elemento, la grazia, Gesù li raggiunge camminando sul mare ed entra nella barca e appena entra nella barca c'è il contatto, la debolezza dei discepoli viene in contatto con la grazia di Dio e fa accendere la potenza, la presenza di Gesù in quella barca diventa come una dinamite che mette a tacere il vento e fa cessare la tempesta, la potenza di Gesù, l'impotenza dei discepoli. Ecco la divina miscela esplosiva, stavamo parlando di Abramo all'inizio, Abramo e Sara si trovarono in una condizione di estrema debolezza perché erano vecchi, stanchi e sterili, come delle bottiglie rotte pronte ad essere raccolte e messe via, è vero? Ma quella era proprio la condizione ideale per far muovere il braccio dell'Onnipotente perché la grazia divina si manifestò proprio nel momento della più estrema debolezza della loro vita pensate, Dio gli diede il figlio proprio quando non ce la facevano più, è vero? La grazia divina venne in contatto con la sterilità di Abramo e Sara perché Dio apparve ad Abramo e gli disse l'anno prossimo tua moglie ti partorerà un figlio e Abramo si fece una bella risata, signore io ho cento anni, mia moglie ne ha novanta, è vero? E ormai da anni che abbiamo chiuso bottega, siamo fuori servizio, non c'è scritto ma io credo che anche Dio ha sorriso, sì Abramo è vero ma io non ho chiuso bottega, io sono sempre in servizio perché la mia gloria si manifesta proprio nella tua incapacità la grazia divina che tocca l'impotenza, la sterilità di Abramo e fa sprigionare la dunamis, la potenza di Dio infatti in Ebrei 11 è scritto che da una sola persona, svigorita, debole, fiacca, impotente e sterile Dio che cosa fa? Addirittura fa nascere una nazione, la nazione di Israele, da un vecchio è così che è scritto, perciò da un solo uomo, questi come se fosse morto quindi più debole di così non si può da un solo uomo sono nati discendenti numerosi come le stelle del cielo e come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare, vi basta? I tre amici di Daniele nella fornace ardente, vi ricordate? Non si piegarono davanti alla statua del re e fu ordinato che fossero presi e scaraventati nella fornace ardente come si lancia una molotov così, le fiamme li avrebbero consumati in un batter d'occhio quindi di lì a poco questi tre giovani, Shadrach, Meshach e Abednego si sarebbero trovati impotenti cosa potevano fare davanti alle fiamme? Erano inermi davanti alla morte ma proprio quando erano con le spalle al muro disarmati Dio manifesta la sua grazia, è vero? Perché lì nella fornace c'era un quarto uomo e fu il re a vederlo Nebuchadnezzar e appena lo vide rimase sgomento, io vedo un quarto uomo con quei tre giovani ed è simile a un figlio degli dèi, pensa un po' che cosa avranno provato quei tre giovani nel pieno della loro forza cosa avranno provato poco prima di essere presi e gettati nella fornace, forse avranno pregato tu che cosa avresti fatto in una situazione del genere? Mi immagino che avranno pregato Signore siamo impotenti, aiutaci, la mia grazia vi basta perché nella vostra incapacità, nella vostra impotenza io manifesterò la mia gloria, sarò con voi nella fornace. Dio permise che i suoi servi fossero redotti all'impotenza, Dio permise che la bottiglia si rompesse per manifestare la sua potenza è così che funziona, è la sua strategia, è la legge del regno allora quando lui permette che la tua vita si indebolisca, si sgretoli o addirittura si rompa si è rotta la tua vita? Non lo so, ma se succede non disperare, usa tutte le tue forze per cercare la faccia del Signore, per metterti in contatto con la sua grazia perché attraverso quel contatto Dio sprigionerà la sua dunamis, la sua potenza è come una reazione chimica, l'ho scritta qua DU più GD uguale PDD debolezza umana più grazia divina uguale potenza di Dio imparate la memoria sta formula per favore la sua grazia e la tua debolezza si incontrano e fanno muovere il braccio dell'Onnipotente di El Shaddai alleluia e questo miracolo si verifica proprio quando siamo in situazione impossibile cose che non riusciamo a risolvere è così che funziona la potenza di Dio si manifesta perfetta al massimo della sua espressione quando noi non abbiamo più niente da dire quindi carissimo, carissimo quando capita che ti trovi davanti a situazioni impossibili sappi che hai un'occasione unica perché Dio ti dà la possibilità di sperimentare due degli attributi divini più importanti la haris e la dunamis la grazia e la potenza e questa fratelli non è una supposizione non è una teoria ma è una legge la legge del regno è una verità eterna sapete, noi lo sappiamo là fuori c'è la legge del più forte ma nel regno di Dio non è così io l'ho scoperto nel regno di Dio c'è la legge del più debole c'è una favola che illustra in un modo chiaro come funzionano le cose là fuori ve la racconto si intitola il lupo e l'agnello dai vi piacciono le favole no? dite la verità allora un lupo e un agnello è una favola di Fedro conosciuta è cortissima e non vi preoccupate un lupo e un agnello spinti dalla sete arrivarono davanti a un ruscello per bere il lupo si fermò più in alto e l'agnello più in basso allora il lupo voleva mangiarsi l'agnello e quindi cercò delle occasioni per litigare e per mangiarselo e quindi gli disse perché mai intorbidi l'acqua che io sto bevendo e l'agnello timidino rispose ma com'è possibile una cosa del genere? l'acqua che io bevo passa prima da te sei mesi fa hai parlato male di me com'è possibile? non era ancora nato sì ma è stato tuo padre che ha parlato di me e gli è saltato addosso e l'ha mangiato e la favola si conclude in questo modo coloro che hanno forza prevaricano quelli che sono deboli e approfittano di loro è vero? è così fratelli che funzionano le cose in questo mondo e non lo dite a nessuno a volte anche nella chiesa e questo è in ogni ambito della vita però sapete carissimi aprite bene le orecchie nel regno di Dio la legge del più forte non funziona sapete perché? perché è l'agnello che si mangia il lupo Gesù quando ha mandato i suoi discepoli gli ha detto diverse cose e poi ha concluso in questo modo io vi mando come pecore agnelli in mezzo ai lupi mangiateveli sapete noi siamo in guerra combattimento spirituale e qui Gesù ci sta dando il principio fondante del combattimento spirituale perché? beh perché il lupo normalmente è il più forte no? non c'è proprio paragono non c'è storia l'agnello non ha nessuna possibilità nei confronti del lupo ha già perso allora che cosa vuol dire? che Gesù ci manda al massacro vuol dire che Gesù ci insegna i principi del suo regno Gesù vuole farci capire che la legge del più forte non si vince con la forza ma con la debolezza tutto il capitolo 12 di seconda corinzi parla di questo versetti 27 e 28 Paolo dice che Dio ha scelto le cose deboli di questo mondo per svergognare le forti ha scelto le cose ignobili le cose disprezzate anzi le cose che non sono quelle che la società ha schifato ha scartato ecco Dio ha scelto proprio queste cose per ridurre al niente le cose che sono qui c'è un principio fondamentale la debolezza di Dio se così vogliamo chiamarla è più forte della forza dell'uomo e ditemi qual è l'esempio massimo della debolezza di Dio? la croce il figlio di Dio che si abbassa a diventare figlio dell'uomo l'iddio onnipotente che mette da parte la sua potenza si lascia prendere umiliare flagellare crocifiggere dalle sue stesse creature la follia di Dio la debolezza di Dio ditemi un po' in che modo avranno considerato Gesù quando era lì appeso sulla croce è chiaro come un fallito ah 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 il Messia il Salvatore guarda un po' come è ridotto è un perdente è un debole certo l'evidenza dei fatti sembrava così Gesù era attaccato con le mani e i piedi il massimo dell'impotenza è vero ed in più c'era una folla lì che testimoniava la sua fine è vero un fallimento pubblico tutti potevano vederlo il massimo della vergogna e dell'umiliazione e sapete anche se non c'è scritto io credo che anche i discepoli avranno provato compassione per il loro povero maestro sconfitto lì si manifesta il punto più alto della debolezza di Dio ma è proprio lì nel momento della estrema debolezza di Gesù che Dio manifesta la sua dunamis perché lì Gesù ha ottenuto il più grande trionfo di tutti i tempi lì ha sconfitto il peccato la morte e Satana allora noi possiamo dire questo e aprite bene le orecchie Gesù non ha vinto con la sua potenza e no sarebbe stato troppo semplice Gesù ha vinto con la sua debolezza per stabilire un principio è così che Gesù ha sconfitto Satana con la sua debolezza è così che Gesù ha spezzato la legge del più forte con la sua debolezza pur essendo onnipotente si è fatto debole pur essendo ricco si è fatto povero lui non si preoccupa si preoccupò di apparire come un perdente perché tutti lo considerarono così Gesù accettò di perdere la faccia davanti ai suoi discepoli persino davanti ai suoi nemici accettò che il suo nome fosse calunniato maltrattato infangato fino alla fine Gesù Gesù di Nazareth ed è per questo che il Padre gli ha dato il nome quello con la maiuscola il nome al di sopra di ogni nome alleluia lo sai che Dio ha riservato un nome un nuovo nome anche per te è scritto nella Bibbia diverse volte nell'Apocalisse nel profeta Isaia a chi vince io darò un nuovo nome a chi vince ma attenzione fratelli a chi vince non semplicemente a chi vince ma a chi vince alla maniera di Gesù cioè attraverso la debolezza Paolo l'aveva capito questo principio l'aveva capito benissimo sentite cosa dice in prima Corinzi 4 poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra noi gli apostoli ultimi fra tutti come uomini condannati a morte perché siamo diventati uno spettacolo al mondo agli angeli agli uomini noi siamo pazzi a causa di Cristo ma voi siete sapienti in Cristo noi siamo deboli ma voi siete forti voi siete onorati ma noi siamo disprezzati fino a questo momento noi abbiamo fame e sete siamo nudi schiaffeggiati e senza fissa dimora e ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani ingiurati benediciamo perseguitati sopportiamo diffamati esortiamo siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo come il rifiuto di tutti la vogliamo la potenza di Dio siamo pronti siamo pronti persino le chiese quelle stesse chiese che Paolo aveva fondato a un certo punto gli girarono le spalle e si misero dalla parte di quelli che consideravano Paolo come un fallito come un perdente come un uomo da niente e allora Paolo che cosa fa per difendersi da questi attacchi si mette forse a denumerare i successi del suo ministero quante chiese aveva fondato o forse magari si vanta della sua elevata super spiritualità dice io sono stato al terzo cielo e questo che fa Paolo no no lui fa il contrario si mette ad elencare le sue debolezze leggete le epistole corinzi la seconda in particolare elenca le sue debolezze addirittura se ne compiace sentite cosa dice per questo mi compiaccio in debolezze mi compiaccio in ingiurie mi compiaccio in necessità mi compiaccio in persecuzioni mi compiaccio in angustie per amore di Cristo perché quando sono debole allora sono forti ed oltre a tutte quelle ingiurie Paolo aveva anche un altro problema un problema fisico la spina nella carne Dio gli aveva fatto toccare proprio il fondo capite allora perché il piccolo Saulo da Tarso divenne il grande apostolo Paolo capite perché Dio potesse servirsi di lui in un modo così potente perché la sua forza era stata letteralmente annullata perché la bottiglia si era rotta è questo che fece accendere la dunamis nella vita di Paolo è questo che fece di lui l'apostolo dei gentili la sua debolezza attraverso la debolezza di Paolo il messaggio del Vangelo divenne dinamite una potenza che cominciò a spandersi in tutto il mondo a conquistare tutte le nazioni ed il motto di Paolo da quel giorno divenne io non mi vergogno del Vangelo perché esso è dunamis la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede la grazia di Dio che entra in contatto con la debolezza di Paolo ed apre la strada per l'evangelizzazione del mondo è proprio quello che Dio vuole fare con noi quando ci usa come delle bombe però dobbiamo romperci Dio ci lancia per demolire gli ostacoli e aprire nuove strade abbassare i monti riempire le valli far avanzare il suo regno attraverso la nostra debolezza ditemi un po' in che modo pensate che Lutero sia diventato il grande riformatore questo uomo molto spesso cadeva in profondi momenti di depressione al punto tale che sua moglie doveva gridare smettila Dio non è morto sapete lui ebbe veramente tante batoste ma tante proprio e la peggiore avvenne nell'anno 1527 quello fu l'anno più buio di Lutero perché mentre stava predicando sul pulpito ebbe una fortissima vertigine e svenne e da quel momento e per i mesi successivi entrò in una profonda depressione e si ammalò fisicamente lui l'uomo che aveva lottato contro il papa che aveva lottato contro il governo eccolo lì prostrato a terra impotente depresso molte preghiere molte cure sembrava che stesse uscendo da quel periodo ma proprio mentre stava per riprendersi la sua città fu colpita da una violentissima epidemia di peste e vide molti dei suoi amici dei suoi cari morire suo figlio stesso si ammalò e giunse fino alle porte della morte e vi leggo solo alcuni stralci di questa di quello che scriveva Lutero durante queste questi momenti a un certo punto lui dice questa battaglia va oltre le mie forze non solo il mio corpo è afflitto ma è ancora di più adesso la mia mente afflitta satana e i suoi angeli possono tormentarmi con il consenso di dio vengo sbattuto dalle onde dalla furia della disperazione della blasfemia era tentato la disperazione e la depressione avevano bussato violentemente alla sua porta e Lutero era giunta al capolinea era smarrito non sapeva più cosa fare si era proprio rotta questa bottiglia e allora che cosa fa quello che un credente dovrebbe fare in questi momenti prende la Bibbia e comincia a meditare il Salmo 46 Dio è per noi un rifugio ed una forza un aiuto sempre pronto nelle difficoltà perciò noi non temiamo se la terra è sconvolta se i monti si smuovono in mezzo al mare se le sue acque rumoreggiano schiumano e si gonfiano facendo tremare i monti parole penetranti sembravano descrivere proprio la sua situazione perché lui non ci capiva più niente e mentre lui medita queste parole la grazia del Signore entra in contatto con la sua estrema debolezza e sapete che cosa succede ispira a Lutero quella melodia che noi conosciamo forte rocca è il nostro Dio una melodia che è diventata il simbolo di tutta la riforma proprio nel momento più buio della sua vita questo è Lutero benché ai nostri occhi possa apparirci come un gigante era un uomo fragile molto fragile e questa è una delle meraviglie della riforma Dio che si serve di un uomo fragile depresso instabile per lasciare un'impronta potente nella storia dell'Europa e del mondo ma per poterlo utilizzare il Signore dovette portarlo al punto zero annullare le sue forze far rompere la bottiglia così come aveva fatto con Abramo così come aveva fatto con Giobbe con Davide con Gesù stesso con i discepoli con Paolo con Pietro e con tutti quegli uomini e quelle donne che attraverso la loro vita hanno lasciato un'impronta là dove Dio li ha messi e noi cari fratelli vogliamo lasciare il segno sapete qualcuno ha detto che nella vita non contano i passi che fai o le scarpe che indossi ma le impronte che lasci e tutti noi come Chiesa e come individui lasceremo un'impronta la domanda è questa quale sarà questa impronta la nostra o quella del Maestro come dice Paolo quando sono debole allora sono forte cioè quando riconosco la mia inadeguatezza la mia insufficienza la mia impotenza allora Lui ha tutta la libertà di agire nella mia vita e se è Lui che agisce nella mia vita allora la mia vita lascerà le sue impronte è vero? è questo che vogliamo? mentre meditavo su questo verso lo Spirito Santo mi ha dato un'immagine bellissima la nostra vita è come un paio di scarpe molto preziose costruite su misura create per il re a misura del suo piede un paio di scarpe che il re Gesù vorrebbe indossare per camminare su questa terra attraverso di noi e lasciare le sue impronte domanda da cento milioni chi le indosserà queste scarpe? lui o tu? sapete calzare le scarpe che sono state costruite per il piede di qualcun altro può essere un'esperienza molto dolorosa e frustrante vi ricordate che cosa disse Dio a Mosè quando lo chiamò al ministerio? togliti le scarpe togliti i calzari dai piedi fino a quel momento era stato Mosè a calzare quelle scarpe che sarebbero la sua vita ma da quel punto in poi fu Dio ad indossare quelle scarpe ed ecco perché le scarpe di Mosè lasciarono un'impronta così importante nella storia del popolo di Dio perché in quelle scarpe c'erano i piedi di Dio fratelli vogliamo che il maestro ci usi e allora dobbiamo rispondere a una domanda che cosa facciamo quando Dio ci toglie le scarpe quando ci porta al punto zero quando fa rompere la nostra bottiglia e le nostre forze evaporano la nostra impotenza è davanti agli occhi di tutti e quando forse gli altri ci considerano dei falliti non so se te è mai capitato ma se stai servendo Gesù sappi che capiterà anche a te è capitato all'apostolo Paolo abbiamo sentito è capitato all'utero il fallimento fa parte del pacchetto perché noi siamo fragili siamo deboli lo so non piace a nessuno fallire noi desideriamo dare un'immagine forte di noi stessi ciò che siamo riusciti a costruire è vero forse è per questo che esistono una marea di libri su come avere successo non dico solo nell'ambito secolare ma forse soprattutto nell'ambito cristiano come avere una vita di successo perché l'idea del fallimento e dell'insuccesso ci è estranea tutti vogliamo apparire forti in gamba popolari e quindi quando Dio permette che noi diventiamo deboli ed impopolari che cosa succede? quando Dio permette che ci rompiamo andiamo in depressione e perché? evidentemente perché stiamo vivendo secondo la legge di quel mondo la legge del più forte e non secondo la legge del regno che è la legge del più debole e noi cari fratelli come ci sentiamo questa sera? deboli forti impopolari malvisti arrivati falliti questa sera la parola di Dio ci ha ricordato che se vogliamo essere usati se vogliamo diventare degli strumenti efficaci nelle sue mani dobbiamo imparare a gestire la nostra debolezza dobbiamo essere d'accordo di essere portati al punto zero dobbiamo imparare a scomparire io devo diminuire e lui deve crescere perché soltanto quando la nostra forza è ridotta a zero la sua potenza può entrare in azione amén vi voglio bene che Dio vi benedica amén amén Grazie.